L'Aggiunta regionale ha approvato il disegno di legge per il salvataggio e la ristiturazione della SOGEAL, la società di gestione dell'aeroporto di Alghero. Questo secondo quanto previsto dal testo unico sulle società partecipate varato dal Governo. L'obiettivo del provvedimento è quello di arrivare ad una capitalizzazione pubblica totale della SOGEAL, qualora non dovesse concludersi positivamente la procedura di sottoscrizione del pacchetto azionario da parte dei privati. Il bando scade il 28 novembre. Il disegno di legge approderà in Consiglio regionale dopo la verifica degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea. La norma stanza 15.290.000 euro per il triennio 2016-2018. La Regione, se legge una nota, sta portando avanti tutte le azioni percorribili sotto il profilo normativo finalizzate alla messa in sicurezza dalla società di gestione dell'aeroporto catalano. Si tratta di intercomplessi che devono consentire di ripristinare la reddittività della società entro un tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche sulle condizioni operative future dello scalo. La Regione, conclude la nota, mantiene un interesse attuale e concreto ad evitare la liquidazione della Sogeal.